Si è scaturito che ha vinto la mozione del PD, però mi hanno messo una specie di clausola lì che preferirebbero l'accessione gratuita, adesso francamente io non lo so che cosa succederà, non tutto è perduto naturalmente, però se approvavano magari la mozione dei 5 Stelle noi saremmo stati più contenti. Che cosa comportava la mozione dei 5 Stelle rispetto a quella del PD? Dei 5 Stelle praticamente perorava la causa della ferrovia che non aveva il cambiamento d'uso per cui era stata fatta e in effetti se uno ci pensa un momentino sarebbe anche la cosa più razionale e anche più favorevole al nostro territorio, alla gente che ci abita.